Salve, ci siamo? Sì, ci siamo. Benissimo, è sabato, il sabato in diretta, chiedo scusa se sabato scorso non ho fatto alcun collegamento perché ero un po' in giro per l'Italia, perché in questo momento mi sto muovendo molto per organizzare anche molte cose che sono in ballo, ad esempio voi avete per caso ascoltato qualcuno degli audio, dei tre audio del dottor Tancredi Militano a proposito del cervello, dentro il cervello, viaggio dentro il cervello perché sono estremamente importanti, sono estremamente educativi, fanno scoprire delle cose che per quanto mi riguarda e credo di non essere il più incolto degli uomini, mi ha fatto fare grandi e interessanti scoperte e sull'onda di questi tre audiolibri dentro il cervello del dottor Tancredi Militano, tra breve presenteremo tutta una serie di audiolibri molto più brevi ma molto operativi, cioè che ci insegneranno a come sfruttare al massimo e al meglio il nostro cervello per superare delle problematiche della vita quotidiana. Gli audiolibri sono un segmento di produzione che sto curando molto e nel quale voi troverete molte ma molte novità nei prossimi mesi. Nel frattempo continua la produzione degli ebook e continua anche, non so, una stagione curiosa, vi avevo accennato l'ultima volta che sull'onda di un ebook si è creata una manifestazione a Bonconvento che è una piccola ridente cittadina a 30 chilometri da Siena, molto ben organizzata, è stata creata una manifestazione enogastronomica ispirata a un ebook, pensate ad un ebook della Simonelli Editore, la cucina Grisaldi del Taia che si è conclusa con la collaborazione di Slow Food anche con un interessante e goloso pranzo che ha riproposto alcune delle ricette contenute nella cucina Grisaldi del Taia, che è un ebook che lo si può ordinare anche in versione di volume e nella versione in volume lo si può anche ordinare non soltanto su ebooks Italia ma anche su Amazon e in questo senso vi segnalo di stare un po' in campana perché troverete su Amazon non soltanto ebook di Simonelli Editore ma pian piano con il passare del tempo troverete anche tanti libri di Simonelli Editore ordinabili da qualsiasi parte del mondo e naturalmente dall'Italia ma che provvederà Amazon a stampare e a consegnarvi quindi entrando in Amazon cercate anche non soltanto gli ebook di Simonelli Editore che sono circa, oltre raggiungono a questo punto quelli che sono su Amazon i 700 titoli circa ma cominciate a cercare i libri di Simonelli Editore che stampa Amazon e che vi consegna Amazon che dire, io sono estremamente operativo anche sul piano dei video, stiamo sperimentando molte cose nell'ambito dei video perché credo molto come voi già sapete nella multimedialità e credo molto nel mix ebook, video, audio eccetera eccetera ad esempio il salotto delle idee di Simonelli Editore che è un appuntamento settimanale che puntualmente si rinnova ogni giovedì alle 21 va online un nuovo videotalk con un personaggio particolarmente interessante sia del mondo della cultura, sia del mondo dello spettacolo, sia del mondo imprenditoriale in ogni modo di qualsiasi settore purché sia portatore di elementi di creatività, di interesse eccetera ebbene pensate sono già 83 settimane che puntualmente si rinnova questo appuntamento ogni giovedì alle 21 e continuerà, io spero di riuscire a continuare a presentarvi delle novità ma anche nell'arco di tutta l'estate, cioè di presentarvi questo appuntamento settimanale senza soluzione di continuità, ovvero veramente anche tutti i giovedì d'estate dalle 21 spero di potervi offrire un nuovo videotalk e poi stiamo sperimentando insieme con Claudio Pina che voi ormai conoscete che sta diventando sempre di più il mio partner in queste avventure creative di video, audio eccetera stiamo mettendo appunto un progetto del quale di sicuro c'è soltanto per ora il titolo Claudio e Luciano in tour, Luciano e Claudio in tour e di puntata in puntata si rinnova, si modifica si ricrea in qualche maniera, cosa sicura è che porteremo avanti questa nostra modalità di fare video e di fare televisione con un atteggiamento anche molto ironico, molto leggero perché penso che siano tempi in cui un po' di leggerezza non guasta mai ecco detto questo amici miei io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione mi scuso se ad esempio ho saltato dei 50 secondi, ho saltato altri tipi di appuntamento video ma in questo momento sono veramente molto preso, molto preso da tanti progetti da tante cose che stanno maturando e delle quali poi vi parlerò più diffusamente nel momento stesso in cui diciamo la frutta è veramente matura buon fine settimana, buon sabato sera, buona domenica e arrivederci alla settimana prossima arrivederci amici ciao 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 ciao